Nella cappella della parrocchia Madonna di Pompei, zona centrale di Torino, non c'è più il tabernacolo. Cinque giorni fa è stato sradicato dal muro e rubato con tutte le ostie. Ed è solo uno dei numerosi furti subiti negli ultimi tempi dalle chiese della diocesi subalpina. Da Natale, in almeno cinque parrocchie, sono stati portati via calici, pissidi, tabernacoli. Le ostie consacrate sono sacre, rubarle è un sacrilegio grave. E così l'arcivesco di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, ha inviato una circolare a tutti i parroci chiedendo di custodire il Santissimo in un luogo sicuro e di vigilare il più possibile, ma senza chiudere le chiese. Sappiamo che anche le persone che lavorano durante l'ora dei pasti magari amano anche passare il momento in chiesa, quindi non possiamo chiudere le chiese. Però dobbiamo fare in modo che ci sia un turnovere di persone, di volontari, che siano presenti. Diversi motivi dei furti, secondo l'arcivescovo. Da una parte la povertà crescente e la convinzione, spesso errata, di portare via arredi di grande valore economico. Dall'altra l'ipotesi di sette, che utilizzano le ostie per riti sacrileghi, come già scoperto in passato a Torino. Comunque bisogna essere molto attenti perché qui, al centro di questi furti, si è il tesoro più prezioso della chiesa.